Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale I carabinieri arrestano a Marotta, un 35enne aveva droga e anche un Kalashnikov Auto si ribalta sulla Flaminia, paura per una donna di 60 anni che era alla guida Le nuove scogliere, risolto un problema, ne creano subito un altro, i bagnini protestano Finita di Ponte Metauro presa d'assalto il 1 maggio, ma a fine giornata il Prato si trasforma in una discarica L'ex ministro Chiang Affano per presentare un reportage fotografico Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Che anche stasera si apre con la cronaca a Marotta, c'è stato un nuovo arresto In manetta è finito un 35enne che aveva un bel po' di droga e anche un Kalashnikov 700 grammi di marijuana, 20 di cocaina, una pistola giocattolo e un Kalashnikov Sono stati rinvenuti durante una perquisizione che ha portato all'arresto di un 35enne da parte dei carabinieri di Marotta I militari, dopo vari tentativi di avvicinamento a sorpresa Vanificati dalla presenza di due cani di grossa taglia che l'uomo aveva sempre con sé Hanno deciso di appostarsi di fronte alla sua abitazione e al momento più opportuno, quando uscito per portare i cani a passeggio Sono entrati in casa In gente la quantità di marijuana, strumentazioni per il confezionamento, una scaccia cani e a volte in uno straccio Munizioni e un fucile mitragliatore, perfettamente funzionante E' utilizzato di solito dalla malavita per l'assalto a furgoni blindati E' quindi abbastanza inverosimile che uno spacciatore possa averne necessità Per questo si ipotizza che l'arma sia stata data in custodia all'uomo, ma resta da capire da chi e perché Arresto per l'uomo con convalida, in flagranza di reato, per detenzioni di armi da guerra e spaccio di sostanze stupefacenti E la disposizione del giudice della custodia catelare in carcere Un'auto si ribalta sulla Flaminia, Cucurano di Fano, paura per una donna che era al volante Incidente autonomo oggi pomeriggio intorno alle 17 lungo la via Flaminia Non distante dalla filiale della BCC di Cucurano Una signora del posto di circa 60 anni ha perso il controllo della sua auto Una Fiat Punto Celeste, forse a causa del sole che particolarmente in queste ore della giornata Ostacola la visuale, schiantandosi contro la protezione in ferro che delimita il marciapiede e ribaltandosi Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Fano e Cartoceto E' una squadra del 118 che ha da subito soccorso la signora E' portata nell'ospedale cittadino dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti Anche se le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi Visto che a quanto sembra la signora è da subito uscita in maniera autonoma dall'autovettura Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e persone Ma tanta è stata la paura per gli abitanti del posto Che appena avvertito il forte botto sono accorsi sul luogo dell'incidente Adesso parliamo invece delle scogliere Le nuove scogliere hanno certamente portato dei benefici Però stanno causando anche qualche problemino Andiamo a vedere quale con questo servizio Per l'anno prossimo non sbagliare Stessa spiaggia, stesso mare A patto che però la spiaggia ci sia ancora Siamo a Sassonia nelle concessioni che vanno dall'anfiteatro Rastat fino al Molo Qui il mare è lo stesso ma la spiaggia non più La debore scorsa mareggiata con onde di appena un metro e mezzo Ha portato via una quindicina di metri di spiaggia E creato sull'arenile uno scalone di un metro e mezzo Le nuove scogliere hanno funzionato dove c'erano Qui invece mare libero di mangiare metri su metri di spiaggia In previsione proprio del posizionamento delle nuove scogliere Allora qui all'inizio di stagione praticamente si sta verificando un problema molto grosso Avete difficoltà proprio per l'erosione Esattamente, come era prevedibile Come era stato già detto comunque nelle precedenti riunioni Durante la realizzazione per queste scogliere Che si paventava appunto la problematica di una forte erosione Poi per la stagione E il fenomeno si è in realtà avverato E questa cosa era stata comunque fortemente sottolineata all'amministrazione e ai tecnici Già da allora Sono state mandate anche delle lettere proprio paventando questo timore Che poi appunto si è realizzato E diffidando comunque coloro che hanno fatto il progetto Dal fermare il progetto dove sono arrivati ad oggi In quanto il progetto prevede la realizzazione fino al porto E quindi tutela tutti Così è stata tutelata una parte Però a discapito della parte che rimane verso nord Dove sono io e altre concessioni Che abbiamo subito una forte erosione Il circolo velico poi con i suoi oltre 100 soci E 50 imbarcazioni In queste condizioni è impossibilitato a operare Ovviamente ci è preclusa l'attività Per via di sto scalino enorme Di un metro e mezzo circa Che non ci permette né di portare in acqua le barche Né di tirarle in terra Ma se dovesse veramente capitare Come è già capitato un paio di anni fa E ricordiamo tutti L'acqua dentro l'anfiteatro Rastat E l'acqua che era arrivata praticamente alla passeggiata Io non so che succede Perché qui la metà del nostro circolo La metà delle concessioni viene praticamente a sparire Noi sul progetto delle scogliere Non siamo mai stati contrari Perché ovviamente tutti siamo per cercare di salvaguardare la costa Quindi siccome i problemi erano più a sud di noi Abbiamo sempre aderito al discorso delle scogliere Però con un progetto che ci è sempre stato detto Che sarebbe terminato Nell'arco di una stagione e mezzo o due Nel senso che già ci avevano detto Che a settembre E che scusami Che a aprile avrebbero terminato questi lavori Per poi ricominciare a settembre Che comunque soldi stanziati ce ne sarebbero stati Qualora l'erosione avesse colpito la parte nord Con la stagione alle porte In questa porzione di litorale Stando così le cose Mancano l'appello Oltre 300 ombrelloni Fra tutti e tre i concessionari coinvolti Qui il ripascimento secondo me non basta Anche perché la prima mareggiata Sicuramente l'acqua andrà a finire alla quarta La quinta fila E quindi ci ritroveremo come l'anno scorso Già è capitato Cerchiamo di fare sempre la miglior stagione Per tutti i bagnanti ovviamente Cercheremo Non so In un modo o nell'altro Spianando Accorceremo un po' le file Comunque cercheremo di accontentare tutto Chiedete che qualcuno Insomma Intervenga Sì Noi chiediamo subito Che intervengano subito Come ripeto Che mettano a bilancio immediatamente Che ci garantiscono immediatamente Che mettono a bilancio Per inizio di settembre Subito le altre scogliere che mancano Come da progetto realizzato Della Regione Approvato dalla Regione Poi vogliamo ripascimento subito Adesso ripascimento anche un po' consistente Soprattutto nei punti più critici Tipo Bagni Maurizio O comunque altri punti Perché è proprio evidente Che c'è un enorme scalone Manca tantissima ghiaia Allora di queste istanze Che avete appena sentito in questo servizio Ne parleremo domani sera Con il sindaco di Fano Massimo Seri Nel corso di Primo Cittadino Quindi domani sera in diretta Subito dopo il nostro telegiornale E adesso andiamo invece Alla nostro Andiamo invece adesso Alla pinetta di Ponte Metauro Sempre a Fano Perché? Perché ieri è stata presa d'assalto Ieri è stata una giornata Classica per le gite fuori porta Primo di maggio Solo guardate come l'hanno lasciata Dopo i picnic Non solo le bellezze del centro storico E i monumenti Tra il patrimonio che Fano Offra i suoi cittadini e turisti Ma anche risorse ambientali A due passi dal mare Come la pinetta di Ponte Metauro Antica più di 2000 anni E che già gli antichi romani Curavano con piante Adatte alla manutenzione del ponte Allora costruito il legno di pino Oggi la pinetta viene usata Come spazio di relax e ristoro Soprattutto in giornate di festa Come quelle appena trascorse Ma a volte ci si rilassa Talmente tanto Da dimenticare le norme Di buona educazione E rispetto per l'ambiente circostante E soprattutto Gli appositi contenitori Per i rifiuti Presenti in tutta l'area del parco A prima vista Sembra essere in ottimo stato Ma addentrandosi un po' Verso il corso del fiume Che la costeggia È molto facile trovare Residui dei bivacchi festivi Bottiglie Piatti e bicchieri di plastica Resti di cibo Fazzoletti usati E assorbenti Che potrebbero rappresentare Anche un pericolo Per i bambini delle scolaresche Che approfittano Degli spazi verdi Durante le pause Delle lezioni E invece a San Lorenzo In campo È scattato il restyling Del centro storico Centro storico ricco di Storia Di arte Per renderlo ancora più affascinante E per valorizzare al massimo Le tante bellezze Che ha questo paese Come l'Abbazia Benedettina Fra i monumenti romano-gotici Più belli Esistenti nelle Marche La Fontana poi E le caratteristiche vie di San Lorenzo Sono iniziati con il rifacimento Della piazzetta A fianco All'Abbazia I lavori voluti Dalla Giunta dell'Onti Che investirà Ben 160 mila euro Per questo restyling L'importante intervento Interesserà le vie Cavour Vittorio Emanuele Secondo E San Demetrio Nel progetto Il rifacimento completo Della piazzetta Di un'importante porzione Di marciapiede Elementi di arredo urbano E nuova illuminazione Nonché Illuminazione Anche Monumentale C'è stata A Fano L'altro giorno L'ex ministro Chiang Ed era a Fano Per passaggi festival Per una delle prime Iniziative In programma Ed era qui Per venuta a Fano Per presentare Un reportage Fotografico Molto difficile A conciliare E che però Ci dicono qualche cosa Con il tema L'amore al tempo dell'odio Dal 21 al 25 giugno Prossimi Si terrà a Fano La quinta edizione Di passaggi Festival della saggistica Organizzato dall'associazione Passaggi culture Da librerie cop Con il patrocino Del ministero dei beni E delle attività culturali E del turismo Del miur E del centro Per il libro E la lettura Nella sala della concordia In comune L'associazione Amici di passaggi Che supporterà Il festival Durante le giornate E per l'intero periodo Organizzativo Ha presentato Il primo evento Legato alla manifestazione Dal libro dell'esodo Un reportage fotografico A cura di Luigi Ottani E Roberta Biagiarelli A firma di Paolo Rumiz E Cecil Chiengi Tratta di un tema Molto rilevante Il taglio Ci è piaciuto molto Perché racconta Dell'esodo Di persone Che scappano Dalla guerra E cercano Di vivere Dignitosamente In pace Nel nostro continente Quindi L'impatto Che queste persone Hanno avuto Con l'Europa Passando Non dal mare Ma dalla rotta Dei Balcani Il libro Il progetto Letterario È un linguaggio Internazionale Un linguaggio Che riesce Ad arrivare Al cuore Delle persone Andando al di là Di quelle che sono Anche le contrapposizioni Politiche Ho accettato subito Dando voce Dando un po' Della mia esperienza A quello che è Un grandissimo Progetto di lungimiranza Come gestire bene Il fenomeno migratorio Un'esperienza Diretta Sulla rotta Dei migranti Per vedere Con i propri occhi Ciò che accade Ogni giorno E raccontarlo Con coraggio Il coraggio Che appartiene A quegli esseri umani Che cercano Di raggiungere L'Europa Per scappare Dalla distruzione Che li circonda Forzando i cordoni Di sicurezza Alle frontiere Attraversando i muri Di filo spinato E i bastoni Della polizia In un viaggio Lungo i binari Delle più vicine Stazioni ferroviarie Un viaggio di dolore Speranza E lotta Alla sopravvivenza Io e il fotoreporter Luigi Ottani Abbiamo camminato Per una settimana Sui binari Insieme ai profughi Principalmente provenienti Dalla Siria E abbiamo raccolto Le loro storie E Luigi Ottani Ha fatto molte fotografie Siamo tornati in Italia Con il desiderio Di voler fare tesoro Di questa esperienza Che ci ha catapultato Dentro un mondo E ce l'ha fatto conoscere Più da vicino Lontano dallo stereotipo E dal cliché Con cui se ne parla Allora Prima di salutarci Due cose La prima Riguarda La vicenda Dell'attentato A Fano TV Non ci sono Aggiornamenti Da Darvi Se non Quelli che abbiamo Pubblicato Ieri Nel nostro sito Internet Ufficiale Occhioallanotizia Punto Punto L'altra cosa Invece è molto importante E qui chiedo Alla regia Di mandare in onda Un cartello Lo leggiamo insieme Allora Fano TV Cambia Frequenza Lo facciamo Alla luce Di alcuni Problemi di ricezione Che si sono registrati In queste In queste ultime Settimane E lo facciamo Perché E' bene Che Fano TV Soprattutto Nel nostro territorio Sia Come E' sempre stato In questi Dieci anni Undici anni Sia Visibile Da chiunque Abbiamo Deciso Di cambiare Dunque Operatore Di rete Di cambiare Frequenza Quindi passeremo Dalla frequenza 60 Alla frequenza 43 OHF Nulla cambia Nel tasto Del telecomando Che resterà Sempre Il 17 Fano TV Sarà visibile In tutta la regione Marche Quindi resteremo TV Visibile In tutta la regione Marche Però Ripeto Con questo cambio Di frequenza Certamente Abbiamo già fatto I test Le verifiche E quant'altro Certamente Colmeremo Tutte quelle lacune Che c'erano E ci sono state Nelle ultime Settimane Presumibilmente Il cambio Verrà 30.000 Mi piace Però Un'altra cosa Importante Che ci tengo A sottolineare È il numero Di telefono 0721 86 14 33 È il numero Di telefono Che abbiamo deciso Di mettere Di mettere a vostra Disposizione Per qualsiasi Informazione Quindi Non esitate A contattarci E a chiamarci Per qualsiasi Informazione Dunque Da qui A giovedì Vi terremo Costantemente Informati Ve lo ricorderemo La cosa importante È che C'è questo Cambio frequenza In modo tale Che Tutti Potranno Tornare a vedere Perfettamente Il nostro Canale In tutta In tutta La provincia Di Peso Urbino Oltre al resto Del territorio Regionale Che certamente Ci interessa Ma come è ovvio Con il nome Che portiamo Il nostro bacino Di riferimento Resta comunque Fano in primis E poi La provincia Di Peso Urbino Questo invece È il numero Di telefono 338 49 68 250 Per le Segnalazioni Grazie per averci seguito Per oggi è tutto A voi l'augurio Di una buona serata A voi l'augurio 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 A voi l'augurio